Mister Pazienza, la notte perfetta quasi per il Cerignola? Sì, è stata sicuramente una bellissima serata dove i miei ragazzi hanno tirato fuori ancora una bellissima prestazione accompagnato da un risultato importante che ci dà la possibilità di andarci a giocare un vantaggio notevole lunedì sera nello stadio del Foggia e quindi questo ci dà maggiore autostima, maggiore fiducia per preparare e costruire tutto ciò che serve per poter passare il turno. Ha scelto un attacco diverso rispetto al solito con Ascicche d'Andrea, scelta che ha premiato? Sì, avevo bisogno di un po' più di vivacità lì davanti e Ascicche ha delle caratteristiche leggermente diverse da Malcore e ho approfittato anche per farlo rifiatare un po' perché ha speso tanto nelle ultime due gare avendo dato sempre profondità alla squadra è chiaro che ha speso molto di più rispetto agli altri. Chiaramente e per fortuna questa scelta ci ha dato dei vantaggi, siamo stati premiati ma io credo che i vantaggi ce li abbiano dati più che altro i giocatori tirando fuori una prestazione eccezionale ma non solo quelli che hanno iniziato la partita dal primo minuto ma anche tutti quelli che sono subentrati andando poi a spostare gli equilibri sia tattici che fisici perché poi hanno ottenuto una grandissima condizione fisica andando a mettere in difficoltà una squadra ben attrezzata. Le chiedo una battuta su Sainz Mazza, so che lei non ama parlare dei singoli però doppietta, gol anche domenica scorsa nei play-off ha segnato più gol di quanti ne avesse fatti in regular season è un giocatore che capisce quando arriva il momento decisivo della stagione, il suo pedigree è abbastanza chiaro. Il calcio è bello anche per questo, poi insomma i numeri lasciano interpretare, lasciano passare un messaggio che magari può essere diverso da quella che è la realtà. Mazza è un giocatore che durante tutto l'arco della stagione ha dato un apporto importante alla squadra, non è riuscito come nelle ultime partite a finalizzare ma ora per fortuna ha trovato continuità anche nella fase realizzativa e questo non può che riempirci di gioia per quelle che sono poi le sue caratteristiche, insomma le conosciamo bene tutti, sia le caratteristiche che le doti e speriamo insomma che ce le faccia vedere il più possibile. Infine una battuta sul pubblico, oggi notte da record sugli spalti, oltre 3.200 spettatori, non ci sarà lunedì a Foggia però c'è la spinta che vi ha garantito dal primo minuto di questa sera? Oggi il pubblico è stato importante, è stato determinante perché già dai primi minuti la presenza così numerosa sugli spalti secondo me ha dato ai ragazzi una carica emotiva, un'energia che secondo me nelle altre partite non abbiamo avuto e io credo che questo sia il giusto merito per quanto fatto fino ad oggi dei ragazzi si meritavano sicuramente uno spettacolo, un palcoscenico così importante e chiaramente ora bisognerà lavorare affinché si possa ripetere questo spettacolo e sta a noi nella partita di lunedì arrivare con la giusta mentalità e con la giusta determinazione per far sì che si riesca a passare il turno.